buongiorno buongiorno con le stelle io sono monica amarillis e questa è la mia rubrica astrologica per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a info chiocciola monica amarillis.com buongiorno e buon martedì 17 maggio 2022 siamo ormai entrati nelle energia della luna calante quindi questo è il momento di adattarsi alle circostanze di verificare se il nostro progetto il progetto che ci siamo prefissi di portare avanti per questo mese lunare sta reggendo alla prova del tempo se ha bisogno di aggiustamenti di verifiche di ridimensionamento invece si può portare avanti così come era nell'intento originario oppure appunto cambiare delle cose adattandole alle situazioni che man mano si profilano ecco la luna in sagittario che rimarrà appunto in sagittario fino a domani a circa il primo pomeriggio è un momento adatto a verificare adattare perché il sagittario è un segno cosiddetto mutevole o mobile ovvero un segno di fine stagione è il segno che segna scusate il gioco di parole il confine tra l'autunno e l'inverno quindi questi segni che sono sagittario gemelli vergine e pesci sono i segni più adattabili più disponibili a cambiare a trasformarsi ad adattarsi alle circostanze che mutano quindi è un ottimo momento questo per verificare quali sono le cose adatte e quelle che invece vanno cambiate vanno trasformate perché è proprio un momento di flessibilità la luna oggi forma un bellissimo aspetto con venere cosiddetto trigono una distanza di 120 gradi quindi tra due segni di fuoco la luna in sagittario e venere in ariete ed è un bel momento per dare spazio per dare impeto ai nostri sentimenti alle nostre relazioni sicuramente tutti i segni di fuoco ne possono beneficiare quindi sagittario ariete e leone ma anche i segni d'aria quelli che sono posti a una distanza di 60 gradi da uno di questi due corpi celesti quindi bilancia acquario e gemelli quindi sicuramente se avete in mente un evento speciale con la persona del cuore ecco questa è una giornata ottima per organizzare qualcosa o anche semplicemente ristabilire un contatto una connessione più amorevole più intima senza cedere all'abitudine ma cercando invece di ritrovare creatività beh parlando di segni mobili appunto sagittario vergine pesci e gemelli che sono interessati da un po' di transiti perché non solo c'è la luna in sagittario ma c'è anche mercurio retrogrado nei primi gradi dei gemelli e invece ci sono ancora nettuno e marte alla fine dei pesci quindi qui abbiamo un po' tutti i gradi tutte le decadi di questi segni interessati da qualche transito questi segni sono chiamati mobili o mutevoli in effetti non solo sono quelli che preparano il cambiamento alla stagione successiva ma sono anche i segni di maggiore scambio condivisione per esempio su questi segni abbiamo la mobilità per esempio soprattutto gemelli e sagittario abbiamo i segni che si spostano di più i sagittari preferiscono i viaggi lunghi gli spostamenti di ampio raggio invece i gemelli magari quelli più vicini comunque hanno bisogno di muoversi di mobilità e anche vergine e pesci sebbene in modo magari diverso e su queste asse dei segni mobili si sviluppa anche la mobilità gli scambi commerciali e anche di valuta di monete quindi chi ha dei valori su questi gradi quindi un po' tutte le decadi sono interessati devono stare un po' attenti a come si muovono in questo periodo magari anche agli investimenti che fanno sicuramente ma anche agli spostamenti per esempio a me è capitato domenica di cadere dalla bicicletta un mezzo di spostamento tipicamente di questi segni e rompermi il polso alla fine si è risultata una frattura composta per fortuna però insomma ho un braccio ingessato ebbene quindi avendo io dei gradi interessati proprio dal transito di mercurio inquadratura a un mio pianeta ebbene è successo così quindi cerchiamo di prestare la massima attenzione sappiamo che a volte non è sufficiente magari questa attenzione può essere indirizzata comunque a non fare gaff perché questi segni sono anche quelli che amano di più parlare di più esprimersi a volte fare anche gaff quindi attenzione anche a questo aspetto e vediamo come è bene trascorrere la giornata oggi per i vari segni cominciamo come sempre dall'ariete che con questo bell'aspetto di venere e della luna sicuramente può riallacciare rapporti positivi con amici familiari e migliorare la propria relazione sentimentale o se non ce l'ha ancora cominciare a vedere di iniziarla per il toro invece può essere una giornata utile da trascorrere nel miglioramento delle proprie routine delle proprie abitudini anche salutari è un momento adatto a rivedere tutte le proprie abitudini per i gemelli con una bella venere ma con la luna in opposizione sarà importante anche qua rivedere le proprie relazioni migliorarle sicuramente le relazioni affettive probabilmente stanno avendo una bella rivitalizzazione un bel momento di espansione ed è utile approfittarne per migliorare e andare a risolvere magari quelle cose emotive che ancora stanno lì che non sono risolte del tutto per il cancro con tanti begli aspetti ma ancora qualche aspetto così così soprattutto da parte di plutone che investe chi è nato negli ultimi giorni del segno ebbene è importante un momento di introspezione per cercare dentro di sé scavare e trovare la propria vera forza e ne avete tanta cari cancri il transito ostile di plutone può essere un vero in riinizio per far morire il passato ostile tossico e ricominciare da capo per il leone è un momento di rivitalizzazione con questi begli aspetti della luna e di venere ma ricordiamo che l'acquario ha anche ancora saturno opposto e sole e urano in quadratura quindi un altro aspetto dissonante ma questo questa giornata può essere utile trascorrerla cercando di fare progetti di pianificare di guardare lontano perché non è lontana la riscossa cari leoni e per la vergine invece una giornata trascorsa utilmente nel migliorare la propria sfera di lavoro quindi la propria carriera pensare a cosa fare quali sono i prossimi passi sicuramente vi verranno in mente delle ottime idee la bilancia invece con la luna in buon aspetto venere in buon aspetto è bene che si occupi delle sue relazioni sia sentimentali che di amicizia perché da lì possono venire nel futuro cose molto buone interessanti proposte idee e sviluppi positivi per lo scorpione invece è una giornata sicuramente particolare forse un po all'insegna dell'introspezione e sarà bene anche riflettere lasciare andare e vivere appieno la propria natura scorpionica che vuol dire comunque andare in fondo alle cose a se stessi alla propria al proprio pozzo scuro e risorgerne risalirne rinnovati per il sagittario con la luna nel segno è il momento di pensare a sé alle proprie emozioni a fare una piccola valutazione sui propri comportamenti sulle proprie reazioni a ciò che ci accade intorno e avremo tantissime informazioni da questo piccolo lavoro introspettivo per il capricorno invece questa è una giornata per verificare l'economia i conti gli investimenti insomma un po i paperonde paperoni che conta i propri dobloni ma andiamo un pochino più in profondità può essere una giornata utile per capire qual è il vero valore non solo quello dei soldi di quello che si vale tra virgolette in società ma dentro di sé alla fine abbiamo valore al di là di quello che facciamo e di quello che riflettiamo verso l'esterno per l'acquario con venere in buon aspetto la luna in buon aspetto è una giornata da dedicare alle relazioni sociali in generale quindi un po a tutte anche a quelle col vicino di casa col panettiere insomma siate sociali del resto è la vostra natura e da qui traete veramente tanta energia cari acquari e infine i pesci invece oggi saranno in un mood un pochino più introspettivo e magari avranno voglia di stare a casa tra le persone più care tra le persone più intime insomma nel nido e qua anche voi troverete un'ottima rivitalizzazione in questa attività e infine diamo un po la pagella dal punto di vista energetico ai segni ebbene al primo posto ci sono ariete e toro con tanta energia da vendere al secondo posto bilancia e capricorno anche loro sono belli pimpanti esuberanti al terzo posto abbiamo parecchi segni abbiamo cancro leone scorpione acquario e pesci sono più o meno pari merito con delle energie che vanno un po su e giù ma insomma se la cavano e all'ultimo posto con le energie un pochino più in balia degli eventi ci sono gemelli sagittario e vergine ed è il momento di riprendere l'analisi delle combinazioni sole ascendente stiamo parlando ovviamente del toro tra poco e tra pochi giorni il sole uscirà dal segno del toro entrerà nel segno dei gemelli per cui non ci resta che affrettarci e analizzare le ultime tre combinazioni rimaste toro ascendente capricorno toro ascendente acquario e toro ascendente pesci e quindi cominciamo con il toro ascendente capricorno due segni di terra doppiamente con le corna per cui sicuramente molto testardi molto determinati molto concreti molto pratici e organizzati molto tenaci con una struttura di base forte a livello fisico strutturale a meno che ovviamente non ci siano problemi diversi indicati dal tema natale individuale potrebbe essere un individuo con grandi ambizioni e con una certa sete di potere sembra che facesse parte di questa combinazione nicolò macchiavelli lo stratega questa combinazione nasce in italia quindi le nostre latitudini tra le 11 di sera e luna di notte se mi seguite da un po sapere saprete che l'ascendente è il segno che si alza all'orizzonte nel momento e nel luogo della nascita quindi il nostro tema natale è veramente una combinazione di caratteristiche che non dipendono solo dai movimenti del cielo ma anche da quelli della terra quindi è veramente nel punto in cui siamo nati il luogo è altrettanto importante di come sono disposti i pianeti nel momento della nascita e questo è già una caratterizzazione una personalizzazione molto forte in questa combinazione l'edonismo la generosità del toro sono frenati dall'ascendente capricorno che è un pochino più restrittivo autorepressivo controllato di entrambi i segni sono signori giove e saturno giove perché è esaltato nel segno del toro e saturno è esaltato in trasparenza nel segno del toro mentre saturno è signore per domicilio del capricorno e giove è esaltato per trasparenza nel segno del capricorno vedete qui c'è uno scambio mutuo di energie che riguardano due pianeti che rappresentano il potere a vari livelli giove per il prestigio soprattutto e saturno perché ama esercitare il potere il controllo sugli altri ovviamente la disposizione generale del tema dove sono situati i pianeti in che case in che segni cambierà tutto rispetto alle personalità che come sempre possono dispiegare una varia gamma di manifestazioni ed espressioni a chi è portatore di questa combinazione consiglio di lasciarsi andare un po di non essere troppo autocontrollato autorepressivo va bene la determinazione va bene l'ambizione ma lasciamo ogni tanto gli ormeggi e veleggiamo anche così senza sapere bene dove e con questo io ho concluso vi saluto e vi auguro una bella giornata con la luna in sagittario e vi do appuntamento come sempre a domani e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola